Non è che sono spocchioso, non è che sono arrogante, ci sono già detto delle istanze critiche, sono state anche in modo molto vocale, molto sonoro rappresentate in varie trasmissioni televisive, vari giornali, quindi sono molto impegnato ma non è che non cerco un attimo di essere aggiornato. Quindi ci confronteremo, è doveroso a questo punto confrontarci, lo possiamo fare nell'ambito delle rispettive responsabilità e dei ruoli, ci confronteremo con Italia Viva, ci confronteremo con le altre forze di maggioranza, per andare avanti, l'ho detto anche in Parlamento, abbiamo bisogno di massima coesione, fiducia reciproca, massima determinazione, perché le sfide sono troppo complesse per poterle affrontare con modalità diverse. Queste sfide non le si possono affrontare se non c'è da parte di tutte le forze di maggioranza, da parte di tutti i ministri, tutte le componenti di quello che è il sistema Italia, piena convinzione, piena determinazione, piena convergenza verso un medesimo obiettivo. Qual è l'obiettivo? Non può che essere il bene dell'Italia. Grazie. Buongiorno e benvenuti al dibattito di Omnibus. Nelle parole del Presidente del Consiglio, impegnato ieri a trovare la quadra sul Recovery Fund, c'è tutta la tensione che c'è stata nella settimana. Il voto sulla riforma del MES, le dure parole di Matteo Renzi al Senato, ribadite ieri in un'intervista al Paese, riportate stamattina sul quotidiano La Stampa, che portano a una parola che sostanzialmente ha detto ieri il Presidente del Consiglio, ovvero la verifica, l'incontro con i singoli rappresentanti dei partiti per poi fare un punto per capire se l'avventura del Conte 2 dovrà andare avanti oppure ci dovrà essere un cambio di passo, chiamiamolo così. Oggi è una giornata particolare perché a Catania ci sarà l'udienza per il processo a Salvini sul caso Gregoretti, ci collegheremo con Catania più tardi. Però un altro voto c'è stato mercoledì, oltre a quello della riforma del MES al Senato, perché alla Camera c'è stata l'approvazione del nuovo decreto sicurezza che manda in soffitta i vecchi decreti sicurezza del Conte 1. E ci sarà poi il prossimo passaggio al Senato, che vedremo, insomma, sarà un passaggio anche questo abbastanza delicato per quanto riguarda gli equilibri della maggioranza. Vado a presentare gli ospiti del dibattito di questa mattina, parto da quelli in collegamento per il Partito Democratico stamattina lì a Quarta Pelle, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno a Nicola Molteni della Lega. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Vedo collegato, mi fa molto piacere il professor Pasquino, buongiorno. Sì, eccomi, buongiorno Penacchioli, buongiorno a tutti. E con me in studio c'è Pietro De Leo, collega del Tempo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, professor Pasquino, parto da lei perché, insomma, come esperienza le ha viste tante nella politica italiana, no? E per quanto riguarda quello che sta succedendo in questa fase, in questo momento, è un film, diciamo, già visto o c'è dell'altro? Aggiungo a questo, no? Parlavo delle parole, insomma, dell'intervista di Renzi al Paese, ieri all'interno del Partito Democratico, ma ce lo faremo dire anche dalla quarta pelle, quella che è la posizione. C'è anche, dall'altra parte, un Matteo Salvini molto conciliante in questa fase, molto predisposto, insomma, al dialogo nei confronti del Premier Conte. La strama del film l'abbiamo già vista, naturalmente. Poi cambiano gli attori, cambiano le modalità con le quali si esprimono, qualche volta cambiano in parte gli obiettivi. In questo caso c'è qualcuno che vuole rompere, che è Matteo Renzi, d'altronde è entrato in politica all'insieme della rottamazione e vuole rottamare. Si è nel frattempo autorottamato e quindi sta cercando di uscire dalla sua autorottamazione. E dall'altro c'è giustamente il Presidente del Consiglio che difende non soltanto la sua carica, la sua posizione, ma la sua azione e anche il futuro della sua azione, che mi pare un altro aspetto importante. Credo che tutto questo dovrebbe avvenire in Parlamento, non attraverso un'intervista del Paese. Renzi in Parlamento non è stato così netto e così tranchant, come si dice, nell'intervista del Paese, che riporti tutto questo in Parlamento. Quanto a Salvini sente di essere... Qualche volta ha messo fuori gioco da Berlusconi che ha più fantasia e qualche volta ha messo fuori gioco dalla Meloni che ha più coerenza e quindi di tanto in tanto fa qualche proposta. Questa del Governo Ponte è una proposta che non esiste proprio, non ha nessuna chance. Quartabelle, la posizione del Partito Democratico, c'è sempre detto che da questo punto di vista, nella fase del Conte 2, il Partito Democratico, ha speso parole di elogio nei confronti del Premier Conte, ha sempre visto nel Premier Conte, usando delle parole come l'attaccante migliore, il giocatore migliore che si potrebbe avere addirittura, con una sorta di leadership anche all'interno del centro-sinistra. E dall'altra parte, insomma, sulle parole di Renzi, ieri c'è stata una posizione di Nicola Zingaretti, però abbiamo atteso un po' tutta quanta la giornata per cercare di capire qual era la posizione del Partito Democratico. Però ora il PD si trova in una fase, diciamo, di scelta, una fase di trovare quella che è la strada per gestire un patrimonio, possiamo dirlo così, che è quello del recovery plan, per trovare, diciamo, la linea giusta da poter seguire, da poter portare avanti. In questo momento il Partito Democratico come si colloca? Cioè, è comunque la fiducia nei confronti del Premier Conte? È immutata o da questo punto di vista il Partito Democratico potrebbe pensare sostanzialmente di guardarsi anche intorno? Guardi, io credo una cosa. Il servizio peggiore che noi possiamo fare al nostro Paese, che è l'Italia, è quello di pensare al recovery fund in chiave elettorale. Sono d'accordo con il professor Pasquino su una cosa. Noi dobbiamo riportare questa discussione dove deve stare, quindi in Parlamento, nel Consiglio dei Ministri. Renzi dice una cosa giusta, la sorprenderò. Questa idea della task force è un'idea che, diciamo, è completamente extra-istituzionale. Noi non è che abbiamo bisogno di sei manager, 300 tecnici, una struttura parallela. Esiste un Consiglio dei Ministri, esiste un Parlamento, esiste una pubblica amministrazione. Questi sono, diciamo, gli organismi, le istituzioni che devono discutere di una cosa importante come il recovery plan che riguarda i 20-30 anni del futuro dell'Italia. Secondo me questa discussione va fatta non dentro la maggioranza, ma anche con l'opposizione e ovviamente con i cittadini italiani, con i sindacati, con le organizzazioni di categoria, perché sono delle decisioni strategiche per il futuro del Paese. Sarebbe bizzarro se da essere passati a discutere di chi decide sul recovery plan, adesso discutiamo di che tipo di crisi di governo si fa. Insomma, io credo onestamente che il Paese non abbia bisogno di questa metadiscussione, cioè una discussione sulla discussione. Abbiamo bisogno di tornare in Parlamento, nel Consiglio dei Ministri, definire qual è l'Italia che vogliamo vedere tra 5, 10 e 20 anni, perché davvero l'appuntamento che stiamo vivendo, quello della crisi, della ricostruzione e di un flusso grande di risorse che vengono dall'Europa, è una cosa che non può essere sprecata in giochetti, tatticucce, discussioni di cui non si capisce veramente il senso. Restiamo sul senso delle cose. Il Partito Democratico sta facendo una proposta al giorno sull'economia, sulla riforma dello Stato, sulle imprese, per cercare di dare un contributo in questo senso. Però, Quartapelle, le volevo chiedere... Mi piacerebbe, insomma, tornare a confrontarci... La cosa che sostiene il Presidente del Consiglio e che, anche leggendo in retroscena oggi sui giornali, ha spiazzato un po' il Presidente del Consiglio è che questa richiesta, diciamo, di task force sia una richiesta che è arrivata sostanzialmente dall'Europa, che è arrivata nel senso che l'Europa, per dirla così, in maniera così brutale, non si fida moltissimo, insomma, dell'alta burocrazia italiana e che avrebbe chiesto come succede, e questo il Premier Conte lo ha detto anche in conferenza stampa ieri, anche in altri paesi, di un organismo che in qualche modo possa accelerare tutte quante le operazioni. E siccome di questo se ne è parlato, lo ricordo ancora io, addirittura quando ci sono stati i stati generali, quelli a Villa Panfili, per renderci conto, quindi parliamo del mese di luglio, se non mi sbaglio, ecco, voglio dire, da luglio fino adesso, lui le ha evocati, ne ha parlato, possibile che ha colto tutti di sorpresa poi quando si è arrivato in Consiglio dei Ministri per poi metterla su questa struttura? Guardi, noi abbiamo tante notizie di Consigli dei Ministri che avvengono verso sera, forse anche un po' per limitare la discussione. Io credo che ci sia una cosa che c'è scritto nel Recovery Plan, cioè quella che il Recovery Plan deve fare due cose, oltre ovviamente a spendere bene e presto le risorse per la transizione ecologica, l'inclusione, la digitalizzazione. L'Italia deve fare due cose, cioè la riforma della giustizia e la riforma della pubblica amministrazione. Questo è quello che ci chiede l'Europa, ma soprattutto che noi stessi chiediamo a noi, nel senso che non possiamo pensare di ricostruire l'Italia, di recuperare i ritardi accumulati in anni di bancate riforme, spendendo delle risorse. Ho capito, ma bisognerà farlo prima o poi. Questo è un momento in cui ci sono una serie di risorse che ti permettono di farlo, di riqualificare i funzionari della pubblica amministrazione, di assumerne di nuovi, di riorganizzare gli uffici, di fare degli investimenti tecnologici. Ora, non pensiamo che questo vaste programma si risolva facendo una task force con sei manager e 300 tecnici, perché davvero perderemmo una grande occasione, che non è del PD, del Movimento 5 Stelle, è per l'Italia, e su questo io vorrei vedere davvero un coinvolgimento dell'opposizione. Sono contenta per una volta di una cosa che fa Salvini, questa proposta, che permette di discutere le cose con tutti, perché poi le scelte che noi facciamo oggi resteranno attaccate all'Italia per i prossimi vent'anni, e non lo dico così per parlare, ma lo dico perché è vero. C'è un investimento di 192-196 miliardi, quello che è il Recovery Fund, è un investimento importante, non sprechiamolo, discutendo di cose che non vanno a incidere nei problemi reali del Paese, tra cui la riforma della pubblica amministrazione. prenderemo una scorciatoia a dire che risolviamo un problema che è strutturale del nostro Paese, forse da prima dell'Unità d'Italia, risolvendolo con sei manager e 300 tecnici, anche se fossero dei premi Nobel. No, ci mancherebbe perché poi sicuramente questo è uno dei problemi più importanti del nostro Paese. Vado da Nicola Molteni, perché appunto stiamo assistendo a un dialogante, Matteo Salvini, che ha un'intervista a Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, ha detto che la gente stanca e delle contrapposizioni ci vuole vederci costruttivi, ci vuole un dialogo. Felicissimi tutti quanti di questa rinnovata pace, però quali sono i vostri punti? Quali sono i punti imprescindibili per la Lega, per avere un dialogo costruttivo con il Governo? Ma innanzitutto che ci sia un Governo che abbia capacità di ascolto e di interlocuzione, cosa che sino ad oggi non c'è purtroppo stata. Vede, la Lega è forza politica per vocazione di governo, è forza politica che si assume la responsabilità delle scelte e delle decisioni per il Paese. Governiamo i Comuni, governiamo le Regioni, abbiamo avuto responsabilità di governo a livello nazionale, quindi la prima forza politica del Paese non può che avere a cuore le sorti del Paese, con responsabilità, senso del dovere e maturità. Abbiamo posto sul tavolo alcuni temi, ad esempio il tema della ripartenza economica del Paese, il tema della scuola. Il 7 di gennaio dovrebbero riaprire le scuole, dovrebbero tornare al 75% della capienza di funzionalità. Ecco, noi vogliamo mettere a disposizione delle proposte perché ciò accada. Abbiamo la sensazione che il 7 di gennaio scuole e Paese non saranno in grado di poter affrontare questa ripartenza fondamentale e imprescindibile perché dalla scuola parte il senso di educazione, di crescita e di civiltà di un Paese. Io sentivo la collega Quartapelle, parla come se fosse soggetto terzo rispetto ad una forza politica, il PD, che è elemento determinante di questo governo. Noi non possiamo, e lo dico con grande senso di responsabilità verso la situazione di crisi emergenziale, sanitaria, economica, finanziaria che vive il nostro Paese con una prospettiva dei 200 miliardi di euro del Recovery Fund che rappresenterebbero e che rappresenteranno la ripartenza del Paese. Il Paese che noi consegneremo alle nuove generazioni. Ecco, vede, noi non possiamo lasciare il Paese in questo momento ostaggio di una maggioranza di un governo che litiga su tutto. maggioranza di governo che nasce unicamente per impedire il voto, un anno e passa fa, per impedire che si andasse alle elezioni e per impedire che il centrodestra e Matteo Salvini potessero vincere, una maggioranza che si forma senza idee, senza prospettive, senza quell'humus. Il Capo dello Stato, quando si formò il governo a settembre del 2019, chiese alle forze politiche di governo humus, cioè contaminazione, anima, idee, proposte, soluzioni e nel corso di questo anno abbiamo visto solo litigi, abbiamo visto divisioni, lacerazioni e purtroppo in mezzo a litigi, lacerazioni e divisioni ci sta un Paese in sofferenza. Quindi una forza politica seria, responsabile, coerente, che antepone gli interessi degli italiani a qualunque altra logica politica, cosa fa? Mette a disposizione le proprie idee, le proprie proposte al Paese. Chi sta all'opposizione fa questo e poi ovviamente chi sta all'opposizione fa anche opposizione. Sta nel DNA della definizione di opposizione quella di fare opposizione se il governo fa delle robe sbagliate. Citavi te prima i decreti sicurezza di Matteo Salvini e i decreti in sicurezza del ministro Lamorgese è dovere di chi ritiene quei provvedimenti, il provvedimento in sicurezza, immigrazione, clandestino, sbagliato, fare opposizione. Quindi proposte per l'interesse del Paese, opposizione quando vediamo che il governo e la maggioranza vanno nella direzione opposta rispetto a quello che ha bisogno l'Italia. Però Pietro Deleu, che conosce molto bene la Lega, conosce molto bene Matteo Salvini, noi fino alla settimana scorsa avevamo Matteo Salvini che diceva al voto, al voto, al voto. Poi ci siamo trovati la settimana successiva con una sorta di cambio repentino, insomma quasi a 180 gradi in cui sostanzialmente si dice dialoghiamo, parliamo, cerchiamo di portare avanti nuovi progetti, progetti insieme. Oggi tu sul tempo dici, sostieni, che la Lega sarebbe anche pronta insomma a un passo ulteriore da questo punto di vista. Ovvio che deve cambiare anche un po' l'interlocutore, potrebbe anche cambiare, i giornali parlano di un Conte Terra, ma si tira sempre per la giacchetta il solito nome che conosciamo tutti quanti che è quello di Mario Draghi, insomma, che c'è di vero in una e l'altra posizione? Allora, partiamo dal primo punto. Secondo me Salvini in questa fase ha colto un dato, cioè che sarà molto difficile andare al voto, la legislatura prosegue e quindi bisogna... Ha colto o gli hanno fatto cogliere? È il contesto che gliel'ha fatto cogliere, senza altro. E quindi in questa fase ci sono due appuntamenti, uno di breve scadenza, che è quello del recovery plan, e uno di scadenza un po' più lunga, che è quello del Quirinale. E quindi lui, a mio parere, con questa svolta, tra virgolette, che peraltro non è neanche inedita, perché già se ne parlò all'inizio di quest'anno, di un governo ponte, che secondo me è abbastanza irrealizzabile, di un confronto sulle cose, sulle materie, e invece è più possibile, e anche secondo me è doveroso, entra in queste due partite. Perché è fondamentale la fase, il passaggio sul recovery plan? A me fa piacere aver sentito prima, l'onorevole Quarta Pelle, aprire anche ad un confronto con l'opposizione. È vero che, come sembra, l'Europa, pare, abbia chiesto un organismo, una task force, per potersi occupare di questo, però è altrettanto vero che in Italia abbiamo una situazione politica molto particolare, cioè che la maggioranza parlamentare che sostiene il governo non corrisponde con quella che è la maggioranza dei consensi nel Paese. Quindi questo è un dato politico che deve per forza riversarsi in quelle scelte che saranno adottate e che rimetteranno in piedi o cercheranno di rimettere in piedi la politica sociale, la politica economica in Italia da qui ai prossimi decenni. Anche perché, insomma, quella bozza di piano, quel documento di 120 pagine che abbiamo visto, francamente, ha bisogno di un intervento contenutistico importante. Faccio un esempio, ma senza polemica. Io vedo nella seconda parte le riforme e gli investimenti per una transizione green, smart and healthy, manca un capitolo dedicato alla demografia. Cioè, siamo un Paese in cui non si nasce più e ci sono tanti anziani. Quindi questo mi pare tutto rispetto per la rilevanza data alla parità di genere ci mancherebbe altro, però questo mi pare un deficit che va colmato e si può colmare con un lavoro anche tra sensibilità a politiche diverse. Tutto sta a capire anche da dove si comincia. Perché il volume, c'è stato un ampio dibattito anche sulla ripartizione di quei soldi nel recovery plan per non tornare praticamente sull'argomento. però devi coinvolgere l'opposizione. Poi, stando alla crisi del governo, insomma, a questo momento di turbolenza, non crisi del governo, insomma, io vedo tre livelli. Livello uno che è, tra virgolette, quello base. Insomma, Conte rimane ma deve smontare quell'idea di task force che ha, cioè quella cosa pletorica con 300 consulenti, i manager, è molto accentrata su di lui. Livello due si fa un rimpasto, rimane Conte ma si fa un rimpasto. Livello tre che sarebbe il capolavoro di Renzi di parte del PD e credo anche di parte dei 5 Stelle si cambia il presidente del Consiglio. Sinceramente io vedo il livello base, cioè quello di uno sgonfiamento di questa task force di un ridimensionamento di Conte e un rimpasto come gli scenari più probabili. Secondo me non si arriverà fino alla fine ad un cambio di premio. Con questa immagine da videogioco di Pietro De Leo abbiamo finito le monete dobbiamo andare in pubblicità e tra poco parleremo appunto dei decreti sicurezza della votazione che c'è stata in settimana ma anche del ruolo dell'Italia nel Mediterraneo perché è una situazione molto molto delicata. Ieri sono arrivate delle notizie clamorose dall'Egitto per quanto riguarda il caso Regeni con un video che mostra insomma quelle che sono responsabilità dei servizi segreti e dall'altra parte c'è il caso dei pescatori di Mazzara del Vallo che sono in questo momento in Libia detenuti in Libia 18 pescatori e ieri abbiamo superato i 100 giorni ne parliamo tra poco. Allora entriamo in diretta stiamo tentando stamattina di parlare anche di quello che è successo in settimana c'è stata la votazione sulla riforma del MES che è stata di limente per il futuro della legislatura veniamo dalla settimana dove i numeri per quanto riguarda il Covid sono sempre alti purtroppo sono sempre alti morti anche se si registra insomma un rallentamento per il contagio e c'è il dibattito in atto molto forte ne parleremo di questo domani mattina sulla possibilità la libertà che potrebbe essere concessa ai comuni di spostarsi durante le giornate di Natale e di Capodanno tra i comuni ma questo poi lo deciderà il Parlamento quindi stiamo tentando insomma di guardare anche quello che è successo durante la settimana di altro e tra le altre cose che sono successe c'è stata la votazione alla Camera del nuovo decreto sicurezza votazione che c'è stata nella giornata di mercoledì quando appunto al Senato si dava il via libera per il Presidente del Consiglio sulla riforma del MES che ha avuto degli stracici 11 parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno votato in senso contrario e dentro il 20 bisognerà votare in Senato e riparto da Piero De Leo questo passaggio è un passaggio che potrebbe essere in dolore conosciamo tutti quanti insomma quelli che sono i numeri al Senato abbastanza risicati oppure ci dovremmo attendere delle sorprese ma grosse sorprese secondo me no perché il governo non credo possa andare in crisi per un punto qualificante di Matteo Salvini senza altro ci saranno dei mal di pancia soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle insomma è notorio che questo stravolgimento dei decreti sicurezza per loro sia ponga sul loro tavolo un prezzo politico da pagare molto importante perché comunque un anno e mezzo fa li hai approvati adesso li stravolgi in un senso non è una modifica è proprio un ribaltamento della politica migratoria italiana con questo decreto ci sarà un prezzo politico molto importante è chiaro che c'è una fazione interna al Movimento più di tendenza moderata e non di sinistra che masticherà Amaro però fino alla fine io non credo si arriverà a una rottura su questo nel caso c'è sempre l'espediente della fiducia nel momento in cui queste fibrillazioni dovessero diventare molto importanti a quel punto diciamo il salvagente potrebbe essere porre la questione di fiducia allora in quel caso probabilmente anzi sicuramente tutte le fibrillazioni e mal di pancia potrebbero rientrare però ha fatto molto arrabbiare e mi rivolgo alla quarta pelle ha fatto molto arrabbiare la decisione da parte del Presidente Casellati di parlarne anche in Commissione Giustizia cioè adesso il provvedimento è passato al Senato la scelta di far passare di un ulteriore passaggio in Commissione Giustizia che ricordiamo insomma Commissione Giustizia è a guida di un esponente della Lega è stato visto come una sorta di scelta inusuale da parte del Presidente del Senato quasi a vorere un po' rallentare quello che è il procedimento e a voler far passare ulteriore tempo perché ricordiamo insomma i tempi per l'approvazione finale sono abbastanza risicati in realtà la questione è che c'è una difformità su come l'esame è stato fatto alla Camera poi ogni ramo del Parlamento è autonomo però insomma la valutazione politica è stata diversa vabbè questo insomma succede soprattutto se c'è una Presidente del Senato che è espressione politica di una maggioranza molto diversa nel senso che Presidente di Forza Italia è una Presidente di opposizione di fatto per cui capisco insomma ci si sarebbe magari aspettati un po' più di senso istituzionale ma il punto non è quello il punto è quello che diceva Pietro Deleu prima su fibrillazione all'interno della maggioranza io credo che il Movimento 5 Stelle sul tema migrazione sia sempre stato in difficoltà nel senso che non ricorderete non si può dimenticare le fibrillazioni che ci furono quando furono approvati i decreti in sicurezza di Salvini anche lì una parte dei deputati dei senatori del Movimento 5 Stelle non li votarono alcuni addirittura uscirono penso per esempio a Gregorio De Falco capitano della Guardia Costiera che lasciò il gruppo del Movimento 5 Stelle proprio su questi temi perché non condivise l'approccio secondo me disumano sul tema dei salvataggi in mare quindi questo tema è un tema particolarmente difficile per il Movimento 5 Stelle io dal mio punto di vista dal nostro punto di vista noi siamo contenti di essere riusciti a fare una cosa di aver riportato il tema migratorio all'interno di un quadro di legalità e di sicurezza Molteni non sarà d'accordo su questo tema possiamo discutere tantissimo noi crediamo che poche regole chiare e semplici su chi può stare in Italia su favorire chi lavora in Italia su il fatto di fare dei rimpatri più rapidi semplifichino e aiutino un processo migratorio che invece con le decisioni di Salvini era stato reso più complicato ed era aumentata l'illegalità Salvini non aveva aumentato i rimpatri nonostante le promesse elettorali anzi aveva fatto meno rimpatri dei governi precedenti e aveva reso moltissime persone 24.000 60.000 in due anni addirittura si è arrivati a calcolare e aveva resi illegali mentre erano persone che erano comunque nel sistema e comunque erano tracciabili e riconoscibili dalle nostre forze dell'ordine e dagli enti locali Salvini aveva deciso per propaganda di fare questo che secondo me aveva complicato la gestione migratoria non aveva semplificato e reso più legale la situazione in Italia noi abbiamo deciso di fare una cosa diversa moltini dirà che non è d'accordo vabbè su questo con la Lega tra Partito Democratico e Lega si può discutere tantissimo io penso però che noi abbiamo fatto una cosa giusta che riporta legalità sicurezza prevedibilità dentro un sistema che altrimenti non lo era prima di dare la parola a Molteni però proprio su questo punto volevo sentire il professor Pasquino perché dal punto di vista della quarta pelle insomma la legittima rivendicazione di aver cambiato uno dei decreti che era stato quasi come primo punto da parte del Partito Democratico per cambiare per dare una svolta insomma alla legislatura è stato visto non solamente dagli analisti o agli addetti ai lavori ma anche insomma anche con sentendo un po' l'opinione pubblica come una cosa da tenere quasi in secondo piano quando invece potrebbe essere diciamo una battaglia da rivendicare addirittura praticamente nella giornata della riforma del MES è passato come guardando anche sui giornali come un passaggio diciamo secondario quando invece doveva essere un po' in qualche modo celebrato ho un'impressione solo mia professore no no sono d'accordo con lei Penacchioli credo che il passaggio sia un passaggio importante perché in realtà cambia la logica adesso prima di Leo diceva stravolge cambia la logica dei decreti di sicurezza di Salvini aggiungo cosa che mi è passata sparita nel dibattito che segue anche alcune indicazioni molto autorevoli che erano venute da Mattarella quando aveva firmato quei decreti e quindi anche questo è un aspetto importante credo anche che sia qualche cosa che va più nel senso di dare un'accoglienza regolamentata e non invece di avere dei respingimenti qualche volta irregolari ma mai regolamentati correttamente quindi assolutamente casuali io credo che il PD dovrebbe essere più audace su questo e andare anche avanti per quello che riguarda la cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia questo è un aspetto tutt'altro che marginale ultimo punto sul quale vorrei sottolineare l'attenzione perché credo che le parole che diciamo qualche volta devono essere controllate meglio e cioè non vorrei che parlasse di mal di pancia dei parlamentari che votano difforme dai loro partiti perché vi ricordo che sono senza vincolo di mandato e quello che devono fare molto semplicemente è di spiegare perché votano in maniera difforme quindi può essere perché sono moderati può essere perché sono estremisti però devono entrare sul merito dicendo no questo non è quello che se ho già votato i decreti Salvini un anno e mezzo fa non vedo perché dovrei votare questi e non ho cambiato idea e quindi spiegare questo in una sana logica parlamentare appunto come sostiene il professor Pasquini è una logica anche lo dirò così pedagogica spiegare ai direttori che non si tratta di gente che volta la gabbana ma di gente che riflette che ha delle posizioni che è in grado di giustificarle vado da Nicola Molteni per la replica ovviamente alle parole di Lia Quartapelle e per sapere insomma in senato che cosa accadrà guardi nel 2017 l'attuale ministro degli esteri Di Maio definiva le ONG taxi del mare dopodiché vota con noi i decreti sicurezza mettendo le multe alle ONG per bloccarne l'ingresso il transito e la sosta e ora vota col partito democratico un decreto in sicurezza e clandestine che toglie le multe e toglie le sanzioni consentendo alle ONG di scorazzare liberamente nel Mediterraneo questa si chiama incoerenza giustamente uno deve giustificare deve spiegare perché con Salvini vota una roba e dopodiché va al governo con Renzi Zingaretti e vota un'altra roba io credo che il tema dell'immigrazione sia un tema estremamente serio per non poter essere trattato con questa disinvoltura da parte di Chioggia ha delle responsabilità di governo giustamente si diceva che abbiamo delle visioni diverse è vero abbiamo delle visioni fortunatamente opposte su fenomeni globali come il fenomeno dell'immigrazione per noi l'immigrazione per me l'immigrazione deve essere regolata deve essere controllata gestita pianificata non deve essere subita ci può essere accoglienza e integrazione fatta in maniera vera sincera possibilmente gratuita un'immigrazione e un'accoglienza fatta col cuore e non col portafoglio un'immigrazione che deve essere di qualità cioè la scelta di un paese è quella di scegliersi l'immigrazione utile e necessaria se ne ha bisogno per lo sviluppo del paese è notizia di ieri che la Merkel sta espellendo i siriani fatti entrare nel 2015 l'Italia ha bisogno di nuova immigrazione o abbiamo bisogno di nuovi schiavi l'Italia secondo me oggi non ha bisogno di schiavi pagati 3 euro all'ora sottoposti a caporalato non ha nemmeno bisogno di nuova immigrazione con una disoccupazione che sta esplodendo nel nostro paese dall'altra parte invece c'è un'immigrazione irregolare c'è un'immigrazione che non è controllata la visione della sinistra e l'immigrazione non controllata genera caos genera conflittualità genera disordine un'immigrazione scaricata sui comuni sugli enti locali sulle comunità locali i centri di accoglienza creati senza nemmeno avvisare e informare i sindaci questa è una visione diversa un'immigrazione che non è di qualità come la nostra ma è di opportunità Molteni in tutto questo mi scusi perché la domanda che devo fare siccome se ne è parlato due visioni completamente diverse mi scusi siccome se ne è parlato moltissimo insomma al di là che insomma in questo programma ma in televisione per tanto tempo sui decreti di sicurezza sull'importanza dei decreti di sicurezza sulla svolta insomma che ha dato l'impronta che ha dato Matteo Salvini nel passato governo anche qui ci si aspettava ora non voglio esagerare incatenamenti diciamo agli scranni del Parlamento però da questo punto di vista ci aspettava forse anche una Lega più battagliera su questi punti e al di là delle scene insomma che abbiamo visto al Senato un passaggio ulteriore non c'è anche in questo diciamo una sorta di cambio di passo da parte della Lega? Ma no ma assolutamente no la Lega ha fatto alla Camera quello che poteva fare quello che doveva fare abbiamo bloccato i lavori parlamentari abbiamo bloccato i lavori in commissione abbiamo proposto un modello alternativo a quello che si vuole portare e importare oggi sul tema dell'immigrazione vede se l'immigrazione è un fenomeno globale o c'è una risposta globale o c'è una risposta europea stiamo ancora attendendo l'accordo di Malta della Morgese stiamo ancora attendendo la modifica di Dublino che questa commissione europea avrebbe dovuto portare quindi la gestione dell'immigrazione è un fenomeno gestito a livello nazionale noi quando siamo andati al governo nel 2018 abbiamo trovato un paese con tre numeri drammatici sull'immigrazione 700.000 ingressi dal 2012 al 2018 5 miliardi di euro che lo Stato italiano spendeva male per fare cattiva e pessima accoglienza e cattiva pessima integrazione 10.000 centri di accoglienza sparpagliati sul territorio con i decreti Salvini cosa abbiamo fatto? abbiamo cercato di riportare una situazione che era fuori controllo scaricata sui territori e sui comuni che aveva creato tensioni conflittuali tra i cittadini cittadini di serie A e cittadini di serie B abbiamo portato un po' più di normalità abbiamo ridotto gli sbarchi abbiamo ridotto le partenze sono diminuite le morti nel Mediterraneo non è vero che abbiamo creato più insicurezza ma abbiamo creato più legalità e una gestione più oculata nei centri di accoglienza abbiamo tagliato quei soldi che venivano spesi non a favore del migrante ma a favore di cooperative ovviamente non tutte che hanno alimentato una macchina mangiasoldi inconcludente improduttiva producendo inchieste sulla cattiva gestione dell'accoglienza abbiamo riportato un po' di rigore un po' di legalità un po' di normalità e la situazione del paese si è normalizzata mi sia consentito di dire così come tanti altri paesi europei oggi tanti paesi europei adottano delle politiche di contenimento delle politiche di restringimento delle politiche di deterrenza sul fronte immigratorio di gestione dei flussi immigratori l'unico paese con i numeri in aumento che sta andando in controtendenza allargando aprendo accogliendo limitando rimpatri ed espulsioni è il nostro paese uno può sempre dire e verificare quello che è il punto di vista magari dal punto della quarta pelle era esagerato in un senso da una parte adesso si è voluto diciamo ristabilire quello che è il punto diciamo la linea maginò per quanto riguarda quello che lo Stato può fare o non può fare però Montelli mi consente di dire Pasquino dice una cosa giusta Pasquino dice una cosa giusta e qualcuno sta esultando Pasquino legittimi no perché spesso dice cose giuste è assolutamente di buon senso citava i moniti del capo dello Stato quelli sono è l'alibi dietro al quale qualcuno si è coperto per cambiare i decreti Salvini ci si fosse limitati qualcuno si fosse limitato ad ascoltare ad assecondare integralmente o parzialmente le indicazioni del capo dello Stato i decreti Salvini sarebbero rimasti sostanzialmente integri invece si è andato abbondantemente oltre perché c'è una visione di un fenomeno globale come quello del migrazione filo-immigrazionista e io credo che le conseguenze saranno drammatiche per il nostro paese nei prossimi mesi volevo allargare il discorso insomma perché parliamo del Mediterraneo parliamo della situazione del Mediterraneo però io su questo io devo replicare gliela do subito gliela do subito la replica quarta pelle gliela do subito la replica quarta pelle perché volevo integrare questo argomento mi preoccuperei se non fosse il contrario volevo integrare questo con questo argomento insomma allargare l'argomento a quello che succede insomma in Egitto e in Libia perché riguarda insomma il fenomeno migratorio e riguarda insomma una situazione anche di impasse che vede il governo su questi due argomenti lo fa oggi ad esempio il quotidiano domani tenendo insieme il caso Reggeni nell'intreccio tra Egitto e Libia il governo decide di non decidere perché questo è un altro passaggio ieri possiamo vedere anche le immagini del servizio di Flavio Filippi e ieri al telegiornale ieri è uscito questo video abbastanza clamoroso insomma dove si vede il rappresentante del sindacalista insomma degli ambulanti egiziani che sembra parlare al telefono con i servizi segreti su come utilizzare questa telecamera che registrerà poi l'incontro con Reggeni poi abbiamo ascoltato insomma la deposizione da parte del magistrato che sta portando avanti l'indagine sulle responsabilità oggettive a questo punto da parte dell'Egitto e dall'altra parte c'è la situazione invece dei pescatori che sono ancora bloccati da Haftar in Libia insomma una situazione abbastanza da questo punto di vista insomma lunga estenuante ne parliamo oramai da tempo ieri abbiamo raccolto anche la testimonianza di una familiare insomma dei pescatori di Mazzara del Vallo c'è stata la protesta sotto casa di Bonafede l'altro giorno insomma tutto questo si tiene insieme Pietro sì assolutamente definisce il ruolo dell'Italia nell'area mediterranea un ruolo squalificato smontato ridotto c'è il caso Regeni gravissimo c'è anche il caso appunto dei pescatori ogni volta che ogni giorno più che passa che queste persone sono in mano di Haftar quindi della parte di Tobruk un giorno in cui l'Italia viene messa alla berlina su quella che era un'area di sua grande influenza soprattutto in Libia ci sono due questioni secondo me che accomunano insomma sul fatto della Libia io non assolutamente nulla question sull'impegno che credo stia mettendo l'intelligence stia mettendo chi tratta per riportarli a casa però quello che è mancato sia in un caso che nell'altro è una deterrenza cioè uno strumento per riuscire a forzare la mano quantomeno a rivendicare un ruolo in una trattativa ad imporre un ruolo ad imporre un ruolo in una trattativa perché anche con l'Egitto per arrivare alla verità per arrivare comunque ad un riconoscimento dei fatti c'è una logica di trattativa quindi sia in un caso che nell'altro è mancato uno strumento per poter affermare un ruolo e poter affermare una pari dignità faccio un esempio molto pratico ad esempio nel caso dei pescatori perché l'Italia per esempio non ha schierato una parte di forza navale a largo di Bengasi perché non ha fatto dei sorvoli dei caccia militari a bassa cioè a bassa vuota dei segnali sono questi segnali che si danno nelle situazioni di crisi si va un po' sul piano muscolare poi dopo lì l'equilibrio politico va mantenuto però vanno dati dei segnali insomma allo stesso tempo sulla questione di Regeni insomma la famosa vendita delle navi autorizzata dal governo italiano è stata che tra l'altro vendita agli egiziani che tra l'altro ha anche danneggiato in parte la nostra marina militare perché aveva bisogno di quelle imbarcazioni insomma è passata molto in automatico invece probabilmente doveva essere oggetto di una maggiore insomma di tenere di una tenuta di punto su quella sulla questione sul dossier di Regeni insomma certo insomma è mancato questo faccio l'Italia si è spogliata per seguire ligiamente una via diplomatica che poi non sta portando a nulla perché di fatto non sta portando a nulla si è spogliata della sua dignità e del suo ruolo in campo internazionale io credo che se al posto nostro ci fosse stata la Francia per esempio avrebbe assunto tutt'altro atteggiamento ho la possibilità alla quarta pelle a questo punto di replicare sia a Molteni che a che a Piero De Leo mettendo in ordine insomma le cose tra la replica il caso Regeni e i pescatori la cosa insomma la replica è davvero complessa sono tre argomenti molto diversi no in dubbio sicuramente certo primo punto Molteni citava Molteni citava il capo dello Stato Molteni sa bene che il capo dello Stato non fa le leggi quindi non è che il presidente della Repubblica ha dato delle indicazioni su come modificare puntualmente i decreti in sicurezza di Salvini il capo dello Stato è intervenuto nella discussione politica cosa che fa rarissimamente perché nella realtà la gestione migratoria della Lega non è stata quello che dice Molteni ma è stata tanta faccia feroce tanta rumore sulle navi delle ONG e alcune violazioni degli obblighi internazionali che l'Italia aveva preso con una serie di convenzioni per il salvataggio in mare a partire dalla convenzione di Montego Bay che questo interessa diciamo agli addetti ai lavori ma bisogna dire le cose con il loro nome e essere precisi il capo dello Stato è intervenuto dicendo Parlamento attenzione voi state votando una cosa i decreti in sicurezza di Salvini che vanno contro degli impegni che l'Italia ha preso tanti anni fa quindi persino il capo dello Stato ha dovuto prendere posizione su un atteggiamento migratorio che non è regolare sicuro legale come dice Molteni ma è propaganda faccia feroce minacce e assenze in Europa questa è stata la gestione migratoria di Salvini che non ha prodotto niente se non pochi rimpatri e molte più persone illegali noi abbiamo cercato di fare un'altra cosa poi siamo d'accordo non siamo d'accordo io penso che noi abbiamo fatto bene Molteni pensa che abbiamo fatto male purtroppo loro non è che gli abbiamo impedito di andare a votare loro si sono messi in un angolo Salvini ebro di Papete un anno e mezzo fa ha deciso che non voleva più governare perché voleva comandare lui non è che gli abbiamo prescritto noi si è messo lui in quell'angolo e adesso da quell'angolo continuano a battere la testa sugli stessi argomenti da tempo abbiamo fatto un'altra cosa e questo è il tema migratorio per quanto riguarda Regeni io vi ringrazio di sollevare questa questione ero in commissione Regeni giovedì quando è venuta la procura e ne approfitto per di questo spazio televisivo per ringraziare ancora una volta serio certosino inappuntabile fatto in condizioni difficilissime e con loro ringraziare la polizia giudiziaria lo SCO il RIS dei carabinieri che hanno veramente con i pochissimi elementi di prova a disposizione che gli egiziani hanno dato probabilmente per sbaglio sono riusciti a ricostruire un quadro probatorio molto serio e qui bisogna ringraziare anche la famiglia e la loro avvocata che hanno contribuito a dare delle prove ora noi sul tavolo abbiamo una verità ci sarà il processo ci sarà una verità processuale ma oggi abbiamo dei fatti delle persone dei nomi e dei cognomi in particolare il maggiore Sharif che è accusato per sequestro lesioni aggravate e omicidio e concorso ora è il momento dell'azione guarda pelle anche azioni diplomatiche importanti in questa fase ora è il momento di cercare giustizia e io credo una cosa cercare giustizia vuol dire onorare il nostro paese non solo onorare la memoria di Giulio ma ne va dell'onore della patria uno stato che non è in grado di reagire nel momento in cui una persona viene uccisa in un paese estero e ci sono le prove di un coinvolgimento degli apparati di sicurezza di quel paese e quel paese fa finta di niente ci vuole una reazione italiana sul tavolo ci sono tantissime opzioni la famiglia chiede di richiamare l'ambasciatore dal mio punto di vista bisogna sottoporre la politica e le relazioni con l'Egitto a una revisione strategica cioè si guarda quali sono i dossier dei quali stiamo discutendo con l'Egitto e si decide pubblicamente di dire questi li blocchiamo fino a quando fino a quando l'Egitto non collaborerà e non si prenderà le sue parti di responsabilità e altri li facciamo andare avanti però ad esempio nel caso delle navi come aveva sollevato prima di Leo non si è ragionato proprio così insomma da questo punto di vista non è andata proprio così sì purtroppo non si è ragionato così una battuta 30 secondi su questo voglio dire nomi e cognomi mi scusi su questo voglio dire nomi e cognomi perché la decisione delle navi viene presa nel 2018 quando i ministri Di Maio il ministro Moavero il ministro Salvini e il presidente Conte dopo anni di congelamento delle relazioni con l'Egitto appena c'è il nuovo governo Lega Movimento 5 Stelle si precipitano al Cairo a incontrare Al Sisi quello secondo me fu un errore frutto di un'idea di politica estera che non guarda l'interesse del paese alto ma ci rende degli specie di bottegai sentivo prima Pietro De Leo che diceva altri paesi avrebbero fatto diversi la Francia sta facendo peggio di noi perché tre giorni fa Macron ha ricevuto con tutti gli onori al Sisi all'Eliseo e gli ha pure dato la legione d'onore di nascosto perché si vergogna allora io penso che l'Italia non sia questa cosa qui l'Italia è un paese serio che di fronte a una vicenda come quella di Regeni reagisce un secondo perché abbiamo l'onore della patria sopra il costo un attimo un attimo solo un attimo solo perché ho la pubblicità ma vedo già collegato Simone Costa da Catania tra poco andremo a Catania perché abbiamo detto insomma oggi c'è l'udienza per il processo sul caso Gregoretti vengo da te Simone subito dopo la pubblicità allora rientriamo in diretta ma andiamo subito a Catania da Simone Costa che vediamo davanti al tribunale allora Simone oggi l'udienza ricordiamo rapidamente i 131 migranti luglio del 2019 tenuti sulla nave Gregoretti in attesa insomma dello sbarco tenuti per sei giorni oggi c'è la prima udienza ci si aspetta l'arrivo insomma per testimoniare da parte degli ex ministri Toninelli e dell'ex ministra Elisabetta Trenta non ci sarà il premier Conte sì buongiorno Andrea alle mie spalle in realtà qui siamo nel carcere della Bicocca di Catania alle mie spalle l'aula bunker che è la sede scelta dal gruppo San Pietro proprio per le testimonianze degli ex ministri Trenta e Toninelli ci sarà anche ovviamente Matteo Salvini che ha atteso a minuti come ricordavi tu l'udienza preliminare per il processo sul caso Gregoretti Salvini rischia di andare a giudizio per sequestro di persona aggravato doveva essere ascoltato anche il presidente del Consiglio Conte che ha chiesto e ottenuto di poter essere ascoltato a Palazzo Chigi abbiamo fatto alcune verifiche non dovrebbe avvenire prima di Natale in quell'occasione potrebbero essere ascoltati anche i ministri l'attuale ministro degli interni quello che di fatto ha sostituito Salvini alla Vimina della Morgese e il ministro degli esteri Di Maio il punto della questione e il motivo per cui il GUP San Pietro ha chiesto questo ulteriore approfondimento per sentire alcuni testimoni e per capire se la decisione di tenere per sei giorni i migranti nel porto di Augusto sulla nave della guardia costiera Gregoretti fu una decisione presa dal singolo ministro Salvini fu una decisione governativa come invece sostiene l'ex ministro degli interni che è atteso a breve lo ricordiamo prima di restituirti la linea è in corso anche un'altra udienza preliminare quella sul caso Operarms che è un caso analogo di fatto a quello della Gregoretti anche lì i migranti furono tenuti per giorni a bordo di una nave di una ONG qui è un caso chiaramente diverso perché si tratta di una nave militare in quel caso l'udienza preliminare si sarebbe dovuta svolgere proprio oggi a Palermo è stato chiesto il rinvio ancora non c'è una data per quell'udienza preliminare e anche lì ovviamente andrà Salvini dopo quanto successo oggi verranno lo ripetiamo a breve ascoltati i ministri 30 e gli ex ministri 30 e Toninelli dopo probabilmente la fine dell'anno anche il presidente del consiglio Conte poi i ministri Di Maio e il ministro in una battuta si parla di una prova regina da parte della difesa di Matteo Salvini di un video che viene portato tra l'altro neanche un video privato parliamo della conferenza stampa di fine anno del presidente Conte dove le dichiarazioni di Conte fanno capire insomma quella che è stata la collegialità nella scelta di tenere i migranti sulla Gregoretti sì fondamentalmente ne ha parlato più volte anche l'avvocato difensore di Salvini il parlamentare Buongiorno la parlamentare Buongiorno si parla ovviamente di un video in cui Conte fa capire che prima degli sbarchi c'è la redistribuzione dei migranti in tutta Europa quindi questo farebbe capire che la decisione presa di far attendere i migranti sulla nave Gregoretti fu una decisione governativa ovviamente il video dovrebbe essere diffuso oggi perché ci sarà una conferenza stampa a breve dopo sicuramente quest'udienza preliminare però questo dovrebbe essere la difesa di fatto di Matteo Salvini che non ha mai nascosto di aver sempre considerato la sua decisione di tenere a bordo i migranti della Gregoretti una decisione di tutto il governo e non una decisione solamente del suo ministero che è il motivo per cui verranno ascoltati oggi i ministri ed è il motivo per cui verrà ascoltata vediamo dei movimenti Simone per capire se dopo sì stiamo cercando di capire chi sta arrivando in questo momento c'è Toninelli in questo momento ecco magari possiamo anche vedere il passaggio insomma dell'ex ministro Toninelli che sta andando appunto a testimoniare sul caso della nave Gregoretti ecco lo vediamo vediamo l'ingresso con lo zaino sta entrando in questo momento perfetto Simone allora a questo punto ti lasciamo libero perché lavorerai per il telegiornale vedremo i tuoi servizi per l'edizione del TG delle 13 e 30 grazie Simone rientriamo in studio allora Pietro non ci dovrebbero essere grosse sorprese grossi passaggi insomma tra l'altro nell'udienza preliminare si era chiesto anche una sorta di archiviazione da questo punto di vista sul caso e poi è stato chiesto un approfondimento di indagine qualche ragionamento politico però si può fare assolutamente insomma di là del fatto che in questi mesi il tema dell'immigrazione non ha quella grande presa sull'opinione pubblica che può avere insomma durante l'estate oppure nel periodo del conte 1 però emergono alcune cose la prima è che secondo me Salvini è in una posizione in questa fase una posizione win-win perché se viene archiviato insomma vuol dire che ha avuto ragione ecco se possiamo vedere sulle immagini non so se abbiamo anche l'audio dell'avvocato buongiorno che sta salutando i giornalisti vediamo anche Matteo c'è Salvini Matteo Salvini alla memoria che è stata prodotta dalla difesa Simone ci puoi? Ah ecco sentiamo Salvini non fatevi del male ragazzi non so la luce anche di la luce di il doppio eh ci sono la portazione di la pietra il microfono si avete cancellato il mio governo oggi è una giornata particolare o c'è un messaggio quello che assolutamente tranquillo sereno orgoglioso oggi interverò in aula portando alcuni dati del ministero abbiamo dimezzato il numero dei morti dei dispersi dei feriti degli sbarcati abbiamo salvato vita abbiamo protetto un paese a differenza di quello che è accaduto dopo perché dopo di me sì ci sono stati morti ci sono stati annegati ci sono stati diritti negati quindi arrivare in Italia è un diritto che richiede il rispetto di alcune regole con tutti gli altri paesi al mondo mi spiace solo di impegnare tempo di giudici avvocati agenti siamo in un'aula bunker che di solito ospita processi di mafia io sono in quest'aula come tutti i cittadini italiani rispettoso di quello che la giustizia mi chiede per rispondere di quello che avevo promesso agli italiani di fare ovvero sia combattere gli scafisti traffico di esseri umani il business dell'immigrazione grandestina senza far male nessuno il governo che ha seguito ha continuato sulla stessa rotta quindi sono curioso di sentire cosa dicono oggi Toninelli la 30 cosa diranno Conte Di Maio e tutti gli altri ministri che con me condividevano questa scelta di civiltà Salvini in queste ore il governo sta aprendo ai comuni praticamente al Natale sta anche sotto meglio tardi che mai la tutela della salute è fondamentale nessuno vuole assembramenti pestoni veglioni cene con 200 persone non è direttamente il processo ma quello che attendiamo tutti quanti di capire le decisioni che verranno prese per quanto riguarda le giornate di Natale e di Capodanno Professor Pasquino qual è la sua opinione poi vado da Molteni per cercare di ricordare anche quelli che sono stati i giorni Molteni è stato è stato al Viminale appunto in quelle giornate ci potrà dire meglio di chiunque altro insomma quello che accadeva in quei giorni Pasquino guardo con un po' di stupore queste cose perché prima si comincia dicendo che non bisogna difendersi dal processo ma nel processo però poi Salvini ha fatto di tutto pur di non essere il mandato processo adesso si difende davanti al processo con le stesse frasi cioè non c'è nulla di nuovo ha fatto bene di Leo ricordare che l'immigrazione in questa fase non è una delle priorità degli italiani quindi sta cavalcando un argomento che non è un argomento che gli porterà dei voti a me tutte queste cose non piacciono perché vorrei che ci fosse una chiara distinzione di ruoli una chiara precisazione di che cosa può fare la magistratura e che cosa non deve fare e invece vedo questa commissione questa contorsione politica magistratura affetti emozioni adesso ci mettiamo anche in Natale così via non è una bella storia questa è responsabilità della magistratura o della politica no credo che fondamentalmente sia la politica che fa queste cose poi noi intendiamoci i magistrati sbagliano qualche volta non c'è nessun dubbio qualche volta per fortuna che altri magistrati correggono gli sbagli fatti da quelli precedenti non a caso ci sono tre gradi di giudizio però tutto questo non è molto positivo se posso buttarla in Europa per così dire l'Europa guarda questi processi con una qualche preoccupazione e vede questa lentezza della magistratura che considera non un elemento positivo infatti poi spostandola un po' il discorso e coloro che dovevano investire in Italia da parte dei paesi europei e destra europei hanno molto paura di farlo perché temono poi lungaggini processuali dalle quali non usciranno più però questa storia è una storia brutta che cercherei di non caricare più di tanto vorrei che ci fosse un processo con l'esibizione delle prove se ci sono senza fare anche qualche cosa qualche sceneggiata fuori dall'aula che non so se è bunker anche questa è una frase fatta che eviterei Molteni siamo in chiusura che cosa si aspetta oggi dalle parole di Danilo Toninelli e di Elisabetta Trenta ma innanzitutto se mi è costituito di dire a Pasquino che fine giurista Pasquino sa benissimo che Salvini va a processo non per delle disquisizioni di natura giuridica ma per delle valutazioni di natura politica qualcuno pensa e pensava di battere Salvini non attraverso lo strumento democratico delle urne oggi è giornadona per Pasquino io conosco Montelli e intendiamoci lo apprezzo e quindi lo ascolto poi vi parlate tra di voi siamo in chiusura quindi Salvini va a processo Salvini va a processo per il tentativo non per una valutazione di natura politica ricordiamo che il Movimento 5 Stelle su una vicenda identica a quella a Gregoretto e al caso Diciotti quando era il governo con noi votò contro l'autorizzazione a procedere a Matteo Salvini quindi devono spiegare perché cambiando i governi cambiano anche gli orientamenti di scelte che loro hanno condiviso stando al governo io credo che oggi Toninelli e la Trenta e domani il Presidente del Consiglio Edi Maio non potranno che confermare che cosa che la gestione dell'immigrazione era una gestione collegiale perché i decreti di sicurezza furono firmati anche da questi ministri e la distribuzione dei migranti veniva fatta il player e il titolare della distribuzione dei migranti era Palazzo Chigi quindi prima si distribuivano i migranti e poi si facevano gli sbarchi e quindi una volontà totalmente collegiale voglio ricordare che la Procura di Catania per due volte la Procura di Catania per due volte ha chiesto l'archiviazione di Matteo Salvini il paradosso qual è? Che il Ministro dell'Interno che ha difeso il Paese e la sicurezza dei cittadini italiani Salvini va a processo chi invece ha venduto e svenduto la sicurezza degli italiani governa il Paese questa è una contraddizione surreale mi sia consentito di dire Quartapelle a chiudere 30 secondi Salvini va a processo per sequestro di persona non per un reato politico perché ha bloccato su una nave minori e persone adulte per sei giorni senza averne l'autorità violando anche qui convenzioni internazionali e Salvini va a processo anche perché non ci sono atti cioè lui non si capisce come dava questi ordini quindi decideranno i magistrati ma dal nostro punto di vista quello che lui ha fatto è stato un grande abuso di potere durante quei giorni perché pensava con la faccia feroce con le minacce di diventare re d'Italia per fortuna questo non è successo poi il processo è un'altra cosa ma dal punto di vista politico quello che è stato fatto è stato un unicum un ministro dell'interno che ferma una nave militare del suo paese e non gli permette di sbarcare in porto per fare della propaganda mi sembra che questo qualifichi tutta la vicenda migratoria di Salvini allora vedo già collegata la ministra del lavoro Nunzia Catalfo buongiorno ministro vengo subito da lei il tempo di salutare la quarta pelle Nicola Molteni e il professor Pasquino per essere stati con noi in questa parte tra poco con la ministra Catalfo insomma parleremo di lavoro parleremo di lavoro post covid parleremo di reddito di cittadinanza insomma tanti gli argomenti e i temi subito dopo la pubblicità il reddito arriverà il sito internet per chiedere il reddito di cittadinanza sarà pronto nel mese di marzo significa che da quel momento nel giro di poche settimane nel giro di qualche settimana vi diremo se la persona che ha fatto domanda può accedere al reddito oppure no dopodiché si va alla posta si ritira la carta e si accede al programma del reddito e dopo pochi giorni avrete una telefonata del cosiddetto navigator che vi spiegherà quali sono non solo i diritti di chi prende il reddito ma anche i doveri ci abbiamo lavorato tanto è una cosa non semplice ci stanno lavorando tante persone ma ci siamo quasi grazie al lavoro che faremo con IMS con poste e con il sistema dei centri per l'impiego riusciremo a farcela quindi il reddito si tratta di resistere due mesi e ci siamo e arriverà a quelle famiglie in difficoltà io sono stato in Sardegna in questi giorni solo lì ci saranno 226 mila persone che non hanno accesso al programma del reddito più tutti coloro che si pensioneranno grazie al quota 100 e quindi libereranno posti di lavoro anche per chi sta percependo il reddito chi percepireà il reddito e potrà trovare il lavoro e allora in questo video che sembra quasi preistoria della politica ma sono passati poco meno insomma il 14 gennaio del 2019 Di Maio e Di Battista con la macchina a Strasburgo andavano in macchina a Strasburgo eravamo diciamo all'inizio della campagna elettorale per quanto riguarda gli europei la sede di Strasburgo veniva vista diciamo come una sede troppo troppo costosa e Di Maio all'allora ministro del lavoro oltre che alla ministra insomma delle politiche industriali del nostro paese assieme ad Alessandro Di Battista a combattere diciamo una battaglia insieme a presentare il reddito di cittadinanza e a parlare anche di quota 100 do ancora il buongiorno al ministro Catalfo insomma intanto la prima domanda è di ordine lessicale il ministro la ministra o la ministro così ci intendiamo subito come preferite vero male allora ministro intanto buongiorno intanto buongiorno a lei grazie di essere qui con noi stamattina i temi sono tanti sono molto importanti e dirimente intanto che effetto le fa vedere questo video insomma a distanza di tempo lei è diventata ministro con il Conte 2 però lì si stava all'albore di un passaggio storico sia per il Movimento 5 Stelle che poi per per la vita insomma lavorativa di molti di molti italiani che è il reddito di cittadinanza è un video che certamente mi fa un effetto positivo in quanto io sono una di quelle persone che nel Movimento 5 Stelle si è battuta per il reddito di cittadinanza che lo ha promosso anche nella precedente legislatura sono stata spesso in Germania in Francia per confrontarmi con i loro sistemi di sostegno al reddito con i loro redditi minimi garantiti che sono l'equivalente del nostro sistema di cittadinanza e qui certamente mi fa un effetto positivo è un reddito che sicuramente ha dato aiuto a un milione più di milioni nuclei familiari esattezza un secondo ministro perché l'audio non è eccezionale ritorniamo un attimo nel studio proviamo a migliorare l'audio Pietro insomma il video diamo un senso politico anche al video che abbiamo visto insomma perché adesso quello che è sociale all'interno del Movimento 5 Stelle è un passaggio insomma anche di rimente per quanto riguarda il futuro le due anime Luigi Di Maio Alessandro Di Battista quanto vedi ancora la coabitazione insieme? Al momento sì anche se è una coabitazione difficile abbiamo visto soprattutto nella preparazione degli stati generali che ci sono stati qualche settimana fa sì queste anime ancora convivono bisogna capire poi anche quello che succederà con il governo Conte con eventuali rimpasti insomma mi pare al momento che tutte le varie espettorazioni tutti i vari fuochi d'artificio da parte dell'area più massimalista tra virgolette più ribellista al momento siano rientrate allora sentiamo se il collegamento con il Ministro adesso è ottimale mi sente? sì io mi sento perfetto perfetto allora stiamo completando il ragionamento ma poi ci entreremo sul reddito di cittadinanza Ministro perché ecco la prima domanda è una domanda di attualità e riguarda il recovery plan insomma e riguarda un passaggio insomma che è fondamentale che è importante insomma lei ha partecipato al Consiglio dei Ministri che è stato interrotto per colpa di Pietro De Leo e del suo giornale del tempo perché per l'appunto insomma c'è stata la notizia che aveva preso dal Ministro della Positività fortunatamente notizia che si è rivelata poi non essere vera perché il test invece era negativo allora il test era un falso positivo era un falso positivo per la precisione giustamente allora che cosa intendete fare intanto per quanto riguarda insomma la struttura la governance e per quanto riguarda quelle che saranno le politiche attive sul lavoro i soldi che verranno spesi del recovery plan allora sulla governance come sa c'è una discussione in corso sicuramente noi stiamo andando a programmare 209 miliardi che non è una cifra da poco è una cifra importante per il nostro paese una cifra importante per le imprese italiane per i lavoratori italiani per le famiglie per le famiglie del nostro paese quindi è giusto che ci sia un coordinamento e che trattandosi di investimenti importanti che andranno ad influire positivamente sull'economia parlo dei posti di lavoro possibili della nuova creazione dei posti di lavoro io credo che è interessante tante amministrazioni credo che sia necessario il coordinamento su questo sui progetti del recovery e credo che sia necessario che la spesa fatta nel giusto tempo quindi rispettando i tempi in totale che l'impatto avvenga nel più breve tempo possibile e quindi si metta si faccia davvero in modo che questi 209 miliardi rischiano positivamente visto il periodo storico che stiamo attraversando un periodo particolare un periodo che non l'abbiamo mai attraversato e che come sapete ha avuto l'influenza sulle imprese e sugli avventori credo che più si agisce in modo celere e più avremo dei risultati allora intanto proviamo sempre a migliorare l'audio forse anche con le cuffie che è una di uno stratagemma che abbiamo utilizzato insomma nell'ultimo periodo quando abbiamo cominciato a usare Skype con uno strumento diciamo oramai sostanziale del nostro programma e oggi c'è la stampa pubblica non so se possiamo anche inquadrare dalla legge far vedere anche questo grafico ed è il lavoro la crescita dei working poor chi sono i working poor detto in italiano sono i sottopagati i lavoratori sottopagati ed è la confederazione europea dei sindacati che ha fatto questa che ha fotografato gli ultimi dieci anni dei paesi europei e ne esce diciamo un quadro disarmante per il nostro paese solamente in Ungheria e in Inghilterra sono aumentati di più vedete dal grafico non so se si può inquadrare l'Italia è tra i paesi dove c'è stata la maggiore crescita insomma tra il 2010 e il 2019 addirittura del 28% rispetto ad altri paesi insomma sono con noi insomma con questi numeri Ungheria ed Inghilterra e altri paesi invece vuoi per motivi del covid vuoi per motivi part time involontari insomma ne escono meglio rispetto all'Italia ecco come state vedendo adesso dal grafico ne escono in maniera peggiore Ministro mi sente? Io vi sento adesso la sentiamo perfettamente adesso la sentiamo perfettamente allora ho citato questo l'articolo oggi sulla stampa sui lavoratori sottopagati su questa inchiesta portata avanti dalla Confederazione Europea dei Sindacati e su questo problema che è un problema che veramente va a intaccare la vita di tutti i giorni dei lavoratori cioè i lavoratori sottopagati e soprattutto su come il covid e il part time dei lavoratori ha in qualche modo ancora aggravato di più la situazione sì questo è un tema importante per l'Italia noi sappiamo abbiamo fatto degli approfondimenti in questi anni e sappiamo che ci sono circa 5 milioni di lavoratori sottopagati a volte anche full time quindi non solo in part time spesso sono coinvolti queste tipologie di lavoro giovani e donne che hanno avuto anche un'influenza negativa dal covid dato che spesso sono coinvolti anche i lavoratori stagionali i lavori stagionali i lavori precari e quindi bisogna intervenire come intervenire su questo il primo punto l'abbiamo affrontato all'interno della legge di bilancio inserendo uno stravio contributivo per l'inserimento l'inserimento scusate ma io il ritorno purtroppo ecco se possiamo migliorare oggi diciamo non è uno di quei collegamenti fortunati da questo punto di vista ritorno audio meglio adesso? proviamo inserendo all'interno della legge uno stravio contributivo di tre anni per l'assunzione di giovani e di quattro anni nel mezzogiorno e per le donne un inserimento contributivo per 18 mesi per l'assunzione di donne nel mezzogiorno e su tutto il territorio nazionale per 24 mesi poi c'è un tema che riguarda i salari e la retribuzione e come sapete da tempo porto avanti e ci è un collegato alla Nadef che riguarda il salario minimo quindi dare la possibilità quindi di aumentare la retribuzione dei laboratori in linea anche con quanto sta portando la sceltapea sul salario minimo orario e che dia forza alla collaborazione collettiva nazionale e che comunque stabilisca una soglia al di sotto della quale non scendere in quanto non è una soglia dignitosa facendo un bilancio perché da questo punto di vista voi avete dato insomma come supporto come strumento appunto il reddito cittadinanza per tutti quelli che sono stati sostanzialmente colpiti da quello che secondo me è uno dei più gravi problemi di questo paese della disoccupazione e avete dato diciamo uno strumento di supporto lei che è da sempre insomma combatte da sempre su queste battaglie quando ha iniziato il percorso il reddito cittadinanza lo immaginava così lo immaginava usato in questo modo o aveva un po' un'idea un po' diversa cioè riguardando poi il video che abbiamo visto di Di Maio sicuramente il passaggio e penso soprattutto alla richiesta di lavoro ovvero la possibilità di chi è non ha lavoro in questa fase di trovare un nuovo lavoro si pensava che i centri dell'impiego e l'utilizzo dei navigator da questo punto di vista potessero dare una marcia in più invece assistiamo a una situazione diciamo di laguna di stasi di questa situazione indubbiamente il covid ha in qualche modo diciamo frenato questo sviluppo però ci si aspettava qualcosa di più il reddito di cittadinanza lo immaginavo esattamente così come la riforma dava un sostegno e dà un sostegno al reddito importante alle famiglie italiane e ricordiamo che all'interno ci sono come percettori 800.000 minori e quindi quello era importante farlo immediatamente e all'interno dell'reddito era contenuto ed è contenuta un'importante riforma che riguarda il rafforzamento dei centri per l'impiego che in questo momento è un po' rallentata a causa del covid che prevede l'assunzione di 11.600 nuovi operatori all'interno dei centri per l'impiego attraverso degli avvisi pubblici regionali che verranno fatti in brevissimo tempo entro il 2021 e che ci consentiranno di portare i centri per l'impiego da 8.000 lavoratori a 20.000 circa lavoratori io comunque sto ancora lavorando sulle politiche attive del lavoro perché credo che sia soprattutto in questo momento necessario ed importante rafforzare e abbiamo come sappiamo i centri per l'impiego in Italia ma abbiamo anche 12.000 operatori e forse anche di più che fanno parte delle agenzie e per il lavoro da l'intenzione un attimo perché abbiamo pochissimo tempo mi scusi il ministro abbiamo pochissimo tempo Pietro io su questa cosa del reddito di cittadinanza insomma senza nessuno spirito polemico che ci fosse bisogno di uno strumento di sostegno al reddito insomma non è un tabù è una necessità nel 2018 in campagna elettorale l'avevano detto un po' tutti però insomma io ricordo che il reddito di cittadinanza dovesse nascere come una misura di welfare to work come una misura di inserimento al lavoro di fatto questa metà dell'inserimento al lavoro non ha funzionato il sostegno al reddito ovviamente ha funzionato perché i soldi sono arrivati però allora a quel punto sarebbe stata necessaria una anagrafe telematica per mettere in correlazione tutto e capire chi prende cosa reddito di cittadinanza sussidi locali sussidi regionali perché così veramente si rischia utilizzo un brutto termine un parassitismo di Stato ma quello che serve il limite è sulle politiche attive allora quello che io chiedo al Ministro è cosa avete in mente di fare per le politiche attive di questo Paese prima domanda seconda domanda velocissima all'interno di questo reddito di cittadinanza lei giustamente ha citato il Covid come parte impediente su tutto il meccanismo dei navigator però insomma non dei navigator dei centri per l'inferno dei centri per l'inferno hanno continuato a lavorare hanno preso in carico 800.000 mi perdoni le testimonianze non sono tanto così cioè c'è quello che ha fondato l'associazione dei navigator che dice noi siamo qua però non sappiamo bene cosa dobbiamo fare perché si sono realizzati in un sindacato attenzione sì hanno costituito un'associazione per tutte la propria funzione insomma non c'è stato un difetto di percorso di formazione professionale per i percettori del reddito di cittadinanza quindi queste due sono le questioni allora sulla formazione ovviamente bisogna investire anche per quello sto presentando ho presentato un progetto ma ho già iniziato con le competenze come sapete che investe sulla formazione dei lavoratori la formazione è un tema centrale per trovare le politiche attive quindi noi abbiamo intenzione di rafforzare le politiche attive creando una rete forte che dia la regia già così al pubblico ma che lavori in collaborazione e in cooperazione con il privato in modo tale che chiunque sia il percettore di reddito sia il disoccupato sia il lavoratore in transizione abbia un unico punto di riferimento poi volevo rispondere a ciò che appunto ha detto prima il giornalista è questo sulla riforme le riforme importanti come rafforzamento delle politiche attive dei centri per l'impiego il reddito garantito hanno necessità di un tempo per l'attuazione non parliamo di riforme che si fanno in pochissimo tempo la Germania però ci sono stati messi 8 miliardi insomma la Germania mi faccia finire ci ha messo 10 anni per mettere appunto in modo definitivo la riforma dei centri per l'impiego per il reddito di cittadinanza e per arrivare a un risultato completo ora io dico non ci mettiamo 10 anni però ricordo che stiamo parlando di una riforma che è stata inserita nel 2019 per la quale stiamo continuando a lavorare che stiamo rafforzando ma non solo per i progetti di reddito ma per tutti i cittadini che hanno necessità di avere politiche attive dedicate è una formazione che sia coerente con le richieste dei settori produttivi e delle aziende il fondo nuove competenze che per cui è stato fatto l'avviso che ho creato io è stato fatto l'avviso dall'Ampal un mese fa ha già coinvolto quindi già parliamo di risultati 47 mila lavoratori su tutto il territorio italiano che in questo momento stanno facendo formazione e il loro salato mentre fanno formazione è retribuito dallo Stato quindi noi stiamo accrescendo le competenze dei lavoratori stiamo portando valore aggiunto alle imprese e stiamo investendo in formazione questo ovviamente verrà ampliato da ulteriori progetti cercheremo di fare un progetto anche che riguardi le regioni gli ITS le università e che colleghi le richieste dei settori produttivi a quello che sono poi le competenze dei lavoratori ed evitare il grosso problema è quello di incontrare da questo punto di vista di matchare insomma quelle che sono le competenze perché sappiamo anche di quanti il numero l'abbiamo parlato anche nel tre giornale di una richiesta molto molto alta di posti di lavoro per competenze che non si trovano in Italia e questo diciamo è uno dei problemi siamo in chiusura siamo assolutamente in chiusura io ringrazio il ministro Cadalfo e spero la prossima volta insomma di avere un collegamento migliore magari averla anche qui in studio qui da noi ringrazio Pietro De Leo che è stato che mi ha fatto compagnia grazie a voi adesso la linea va ad Andrea Pancani a Coffee Break noi ci rivediamo domani mattina grazie e buona giornata ciao a tutti ieri a tutti ieri a tutti ieri